Benvenuti a questa serie di video dedicati a West. Mi chiamo Enrico Remici e sono il modellista di processo nel team di sviluppo di West. In questo video vi vorrei presentare West, la piattaforma DHI per la modellazione e simulazione della qualità dell'acqua. Se è la prima volta che vi confrontate con West o se non aveste chiaro se West possa o meno soddisfare le vostre esigenze, credo che questo video vi potrà aiutare a chiarire alcuni di questi dubbi e magari vi fornirà anche qualche risposta. In questo video vorrei per prima cosa mostrarvi una serie di casi di studio che ritengo possano dare un'idea dell'ampio spettro di applicazioni per le quali è possibile utilizzare West. A quel punto dovremmo essere in grado di rispondere alla domanda che cosa è di fatto West. Infine vorrei dedicare spazio a quello che è il dominio tradizionale di West, cioè la modellazione dei processi per il trattamento dei reflui domestici, urbani. E chiuderò questa mia presentazione con una breve dimostrazione di una simulazione dinamica. Ora vediamo questi casi di studio, il primo dei quali riguarda l'implementazione ex novo di un modello unitario, cioè di un modello non presente nella libreria standard di West, nella fattispecie un modello per un sedimentatore primario con aggiunta di coadjuvanti chimici per la sedimentazione. Il modello del processo è stato poi integrato in un modello completo dell'impianto e utilizzato per dimostrare al cliente che sarebbe stato possibile, modificando alcune logiche di gestione, risparmiare fino al 30% dei costi legati al dosaggio. Se poi foste interessati ad approfondire questo argomento specifico potete scaricare la brochure dal nostro sito, così pure come per i casi che vi vado a presentare ora. Una seconda applicazione è questo modello, un modello complessivo di un impianto molto grande, 2 milioni e 400 mila abitanti equivalenti della città di Varsavia in Polonia. Questo mi sembra un ottimo esempio di layout complesso associato ad un layer di controllo ancora più complesso. Infatti in questo progetto abbiamo dovuto implementare in West alcuni algoritmi di regolazione molto avanzati. Qui vedete il layout complessivo, quindi layout dell'impianto con layout di controllo. Di proposito ho lasciato questa fitta ragnatela di linee rosse per farvi apprezzare la complessità che può essere raggiunta con West. La terza applicazione riguarda uno studio combinato di 4 impianti di piccole e medie dimensioni in Danimarca, dove l'obiettivo era quello di identificare le alternative possibili all'aumento delle volumetrie, alternative alla costruzione di nuove sezioni di impianto. In particolare col supporto della modellistica, con lo supporto di West abbiamo potuto dimostrare che investendo piuttosto in nuovi sensori e in un nuovo sistema di gestione, poi realizzato su una piattaforma anch'essa parte della Suite Mike, abbiamo dimostrato come sarebbe stato possibile ridurre considerevolmente i costi energetici, i costi di dosaggio dei prodotti chimici e le tasse all'emissione che si pagano in Danimarca, ottenendo complessivamente un ritorno dell'investimento in poco più di un anno, quindi molto interessante per questo tipo di studi. Arriviamo a un tipo di applicazione molto diverso, questa è un'interfaccia grafica dedicata al di sopra di un modello West, un modello convenzionale dell'impianto di NIMS in Francia. L'obiettivo di questo modello era quello di verificare che l'algoritmo per il controllo dell'aerazione sviluppato dal cliente fosse in grado non solo di ridurre il consumo energetico, ma anche ovviamente di garantire la qualità dell'effluente e di limitare le emissioni di gas effetto serra. Questa è l'interfaccia grafica dedicata che abbiamo sviluppato per questo progetto, come vedete l'accesso al modello sottostante, al modello West, avviene attraverso questo piccolo pannellino quadro di comandi che espone solo un numero limitato di parametri gestionali di processo, mentre i risultati delle simulazioni possono essere visualizzati in modo molto semplice e intuitivo selezionando la corrispondente vasca o il corrispondente processo nell'immagine qui aerea dell'impianto. E questo si è rivelato uno strumento ideale per la formazione degli operatori sull'impianto. L'ultimo caso poi che vi volevo mostrare riguarda un'applicazione di West di nuovo a un contesto completamente diverso, questa è una lavanderia industriale. L'obiettivo qui era di fornire al cliente uno strumento che lo aiutasse nella procedura di water audit identificando gli scenari di minor consumo idrico di modo da ottimizzare l'uso complessivo poi della risorsa idrica all'interno del processo. Per questo lavoro, vedete, sono state sviluppate una libreria di modelli e una libreria di icone completamente nuove per rappresentare le unità, le singole unità di processo necessarie. Qui vedete una lavatrice industriale, una torre di raffreddamento un boiler e così via. Quindi arriviamo alla ragione per cui vi ho voluto fare questa panoramica di applicazioni in West. Vorrei arrivare a capire che cosa effettivamente è possibile fare con West, che cosa consente di fare West. Sicuramente di integrare, abbiamo visto, nuovi modelli nella libreria senza alcuna limitazione di complessità, cioè modelli non presenti nella libreria standard. La libreria è espandibile. Naturalmente implementare layout impianto senza nessun limite di nuovo di complessità, inclusi layer di controllo altrettanto complessi. E naturalmente anche di eseguire un'ottimizzazione sia di processo che energetica. Infine West è sicuramente uno strumento completamente aperto e flessibile. Abbiamo visto per esempio negli ultimi due casi come sia possibile connettere al di sopra di un modello West un'interfaccia grafica dedicata specifica per una determinata applicazione e come la stessa piattaforma di modellazione e simulazione possa essere applicata ai contesti più disparati. E ora cerchiamo di definire, se possibile, capire esattamente che cosa è West. Nei due ultimi esempi che vi ho mostrato abbiamo visto che era richiesto un certo grado di implementazione aggiuntiva. Quindi ora facciamo un passo indietro e vediamo invece che cosa si può fare con l'installazione standard di West, versione 2016. West contiene due librerie una per gli impianti di trattamento municipali e l'altra per i cosiddetti sistemi urbani integrati Integrated Urban Water Systems tre sono gli ambienti di lavoro principali, i tools principali West e due editor, model editor e block editor di cui dirò qualcosa in più tra un attimo e ci sono quattro diversi prodotti o quattro licenze West for Optimization, Design, Operator e West for Automation intenzionalmente li ho lasciati separati perché sono significativamente diversi come vi dirò tra un minuto. Allora, un sistema urbano integrato comprende non solo l'impianto di trattamento che vedete qui al centro, ma anche i comparti a monte il bacino, i bacini drenanti e la rete fognaria di adduzione all'impianto e il comparto a valle, il corpo recettore. Ecco, in West, in un'unica piattaforma è possibile costruire un modello integrato di questo tipo sicuramente semplificato rispetto alla somma dei modelli dedicati ai singoli comparti ma con il vantaggio di poter modellare le complesse interazioni tra questi elementi e sfruttare una serie di funzionalità molto avanzate di West. Qui abbiamo il quadro complessivo dei modelli presenti nella libreria di West 2016 a sinistra i modelli per i singoli processi unitari vedete i processi più comuni che si trovano su un impianto dalle basche di equalizzazione sistemi fanghiattivi tradizionali MBBR, IFAS, SBR, MBR fino a digestori anaerobici qui a destra quelle che nella terminologia West vengono chiamate categorie di fatto corrispondenti ai modelli della serie ASM Activated Sludge Models e dell'International Water Association non solo le formulazioni standard quindi ASM1, 2, 3, 3P, EOAC e ADM1 per la digestione anaerobica ma alcune delle nostre varianti implementate da noi quindi AN per i processi Anamox G1 e 2 per emissioni di gas effetto serra e PWM SA indica l'approccio plant-wide model sviluppato in Sudafrica avevo poi indicato tre strumenti principali che fanno parte dell'installazione completa di West l'applicazione principale appunto chiamata West l'ambiente di lavoro chiamato West per impostare il layout dell'impianto ed eseguire le simulazioni il block editor per gestire la libreria delle icone quindi se avesse la necessità di aggiungere una nuova icona alla libreria questo è perfettamente possibile con il block editor e il model editor per gestire la libreria dei modelli quindi analogamente se aveste la necessità di inserire un nuovo modello oppure di modificare uno dei modelli esistenti con il model editor questo è possibile in particolare il model editor ha queste due modalità di accesso alla libreria la matrice di GUIER per i processi biologici che coinvolgono la biomassa e un editor invece di codice più convenzionale MSL è il linguaggio di programmazione per i modelli di West e poi avevo indicato quattro tipologie di prodotto quattro differenti licenze la licenza completa che si chiama West4Optimization che consente di creare un layout e di eseguire simulazioni dinamiche ma anche di eseguire tutti i cosiddetti esperimenti avanzati tipo analisi di sensitività stima dei parametri analisi di scenario e analisi di incertezza West4Optimization offre anche l'accesso agli editors tra cui il blog e il model editor che vi servono come abbiamo appena visto per accedere alla libreria dei modelli e delle icone un accesso più limitato a West è offerto da questa licenza West4Design che consente solamente di creare un layout ed eseguire una simulazione dinamica non gli esperimenti avanzati e non di utilizzare il blog e il model editor e poi abbiamo un West4Operators ancora più limitato come accesso serve ad installare un modello finito chiuso di un'applicazione specifica e da quel momento l'utilizzatore finale potrà poi solo eseguire delle simulazioni ma non modificare in alcun modo il modello sottostante infine c'è questo West4Automation vi ricordate che l'avevo lasciato un po' separato dagli altri tre è un prodotto a sé stante di fatto si tratta di un software development kit privo di un'interfaccia grafica e che invece consente di interfacciare West o meglio il motore di West che si chiama Tornado ad altri componenti inclusi per esempio componenti SCADA questa è una visione d'insieme delle diverse funzionalità incluse nelle varie licenze di fatto quello che vi ho appena illustrato non andrei oltre nel dettaglio infine vi vorrei dare una breve dimostrazione live di West ok non voglio qui ricreare da zero un layout dell'impianto ho illustrato questo processo in un altro video che vi invito a guardare invece vado ad aprire questo esempio che è perfettamente sufficiente al nostro scopo qui questo è lo schema dell'impianto un impianto convenzionale a fanghiattivi a due vasche per la rimozione di carbonio ed azoto la prima vasca non aerata la seconda aerata e la aerazione è controllata tramite un controllore API proportional integral con un set point dell'ossigeno che possiamo vedere qui 2 mg litro l'influente che possiamo vedere facendo doppio clic sull'icona dell'influente è caratterizzato in termini di portata e di concentrazioni di COD TKN TSS e azoto ammoniacale questo non è in alcun modo vincolante è solo la lista delle misure che erano disponibili per questo ipotetico impianto in un caso reale potreste inserire qualsiasi misura avesse disponibile sull'influente ovviamente ci sarà una ripercussione poi sul secondo step quindi questa rappresentazione grafica del modello cosiddetto di frazionamento cioè dell'interfaccia tra le misure disponibili che qui vedete in blu e le variabili di stato rappresentate in verde del modello in questo caso ASM1 utilizzato per questo progetto e qui abbiamo i due file di input uno per la simulazione stazionaria e qui vediamo la portata media di 22.000 m3 giorno circa e l'altro utilizzato per la simulazione invece dinamica continuando a esaminare il modello vediamo che la temperatura nelle vasche la temperatura del processo è impostata in questo caso a 20 gradi naturalmente può essere variata dinamicamente i volumi delle due vasche sono rispettivamente 2.000 e 4.000 m3 e il volume del sedimentatore di 6.000-1.500 per 4 metri di profondità media le portate delle tre pompe la pompa per il ricircolo della miscela aerata quella per la stazione di fango dal sedimentatore e quella per la stazione del fango di supero sono rispettivamente di 3 volte la portata media in ingresso quindi 66.000 m3 giorno una volta la portata media in ingresso 22.000 e circa 1,5% della portata di ingresso la costruzione dello schema di impianto in West è molto semplice e intuitiva ho spiegato la procedura in dettaglio nel video che citavo prima e che vi invito a guardare ma essenzialmente molto semplicemente si tratta di prelevare le concine che rappresentano le varie unità di processo da questa block library trascinarle sul foglio di lavoro e collegarle fino a costruire l'impianto complessivo in questo modo ora rimuovo questo che non mi serve ok per quanto riguarda gli output output grafici ad esempio qui abbiamo un foglio che contiene alcuni grafici ma potrebbero esserci anche tabelle e altri componenti grafici supportati da West abbiamo qui la concentrazione di ossigeno nelle vasche la concentrazione di solidi nella vasca erata la qualità dell'effluente in particolare rappresentata in questo caso come ammoniaca nitrati CODTKN e solidi totali ora posso lanciare la simulazione stazionaria il cui scopo in generale è quello di inizializzare il sistema qui infatti vedete che la biomassa parte da concentrazione iniziale molto bassa e cresce fino a raggiungere una concentrazione stazionaria attorno a 4,5 5 chili metro cubo e che analogamente il processo qui di nitrificazione segue una certa evoluzione un transitorio iniziale fino a stabilizzarsi a questo punto posso lanciare la simulazione dinamica qui ho 30 giorni di dati quindi un mese di simulazione e possiamo vedere che nonostante delle oscillazioni anche significative dell'ossigeno comunque l'ossigeno è mantenuto attorno a 2 mg litro che è il nostro valore di set point l'ampiezza di questa oscillazione è dovuta alla qualità del controllore la concentrazione dei solidi in vasca qui è relativamente stabile attorno al valore raggiunto in condizioni stazionari di 4,5 5 chili metro cubo ad eccezione di 2 eventi localizzati tra 6 e 8 giorni tra 20 e 22 giorni in cui una quantità significativa di biomassa apparentemente viene persa se poi andassimo a guardare il file di input ci accorgeremo che questo avviene in corrispondenza di due eventi di pioggia molto intensi da ultimo vorrei mostrarvi due funzioni che trovo molto utili per documentare un progetto nel modo più efficiente e sono le note e i report una una nota quindi aggiungiamo una è un rich text format un file rtf o word integrato all'interno del vostro progetto che può naturalmente contenere testo tabelle immagini e quant'altro qui ho copiato un testo da un'altra fonte e lo incollo qui qui vedete testo tabelle eccetera quindi le note ne potete avere più di una per progetto possono essere molto utili per documentare il progetto durante l'esecuzione così pure il report dei report possono essere generati in modo molto semplice e non sono preconfigurati dovete semplicemente selezionare individualmente i vari elementi del progetto che volete poi esportare qui ho inserito la nuova nota che ho appena creato mi posso generare un'anteprima che è questa e poi salvare il documento in word per poi fare tutte le modifiche necessarie per arrivare poi alla relazione finale di progetto quindi in modo molto efficiente molto rapido per trasferire tutti i dati necessari dal progetto alla relazione finale e questo è veramente tutto quello che in quanto volevo mostrarvi in questo video vi ringrazio per l'attenzione spero tornerete a guardare altri video in questo nostro canale grazie e a presto